Con il mister Emanuele Troise alla vigilia di Cesena-Mantova, primo turno dei play-off della Serie C 2020-2021. Mister Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova e Telemantova le chiedono come arriva il Mantova a questa partita e con quali aspettative? Arriviamo con il giusto equilibrio. La squadra ha avuto modo di recuperare con le prime giornate della settimana, poi ha ricominciato a lavorare con il giusto entusiasmo, come giusto che sia, dell'ottimo obiettivo raggiunto domenica ma allo stesso tempo contenuto perché sappiamo che domani sarà una partita dove ci sarà bisogno di uno sforzo ulteriore, di concentrazione perché affrontiamo una squadra molto forte. Per quanto riguarda il campo, con l'infortunio di Dimolfetta, il rientro di Guccione, Mirillo e Zanandrea comunque anche in tal senso hanno mostrato applicazione e attenzione nel preparare la gara. Qualche acciacco che ancora ci portiamo dietro considerando la situazione di Gerbaudo e qualcun altro, però tutto sommato credo che ci arriviamo nel modo giusto, equilibrato per quanto riguarda le aspettative, la posto è in pali alta e comunque anche in tal senso ho visto una squadra che farà di tutto per cercare di passare il turno. Per passare il turno dovete per forza vincere. È una pressione o uno stimolo? Credo che in generale nelle partite, nelle gare, esistono entrambi i fattori, quindi a maggior ragione domani ci sarà pressione e ci sarà stimolo. La cosa importante è gestire queste due componenti in modo equilibrato. Rispetto alla recente partita di campionato col Cesena, cosa vorrebbe rivedere e cosa invece chiede di più alla squadra? È stata una partita, quella lì l'avevo preannunciato nella conferenza che era la terza in una settimana, credo anche loro venivano da diversi recuperi, quindi è stata condizionata da tanti fattori. Comunque il Mantova si comportò bene, tenendo bene il campo, quindi mi aspetto che domani faccia altrettanto, perché ripeto è una squadra abbastanza completa, in più ovviamente rispetto al risultato mi auguro che le cose cambino e riusciremo ad essere molto più incisivi in zona gol. Si aspetta un Cesena sulla difensiva? Analizzandola non si è mai snaturata, ripeto, è una squadra abbastanza completa che va alla ricerca un po' di tutte le situazioni di gioco, abile nel difendersi, ha individualità importanti per attaccare, anche a livello di collettivo ha sempre mantenuto un certo stile, una certa fisionomia, dando continuità di risultati, quindi non credo che proprio domani vada a snaturarsi. È normale che il doppio risultato, da un punto di vista della gestione dei momenti, potrebbe giustamente in qualche modo essere controllato. Quante possibilità ha il Mantua di passare? Non saprei in termini di percentuale, perché comunque, ripeto, è una partita che parte intanto dallo 0 a 0, sono 90 minuti, il tempo non è tantissimo avendo un solo risultato, però comunque noi dobbiamo considerare il fatto che durante il corso del campionato, a parte nelle ultime battute dove il punto, piuttosto che la gestione di qualche momento particolare, doveva essere controllato, domani dovremo essere noi stessi, quelli che insomma durante l'anno in tutte le partite hanno sempre cercato di prendere l'intera posta in pario, sia in casa che fuori. In settimana Setti le ha rinnovato la fiducia, scusandosi perché avrebbe voluto essere più presente nel corso della stagione. Come commenta le parole del patron? Beh, intanto lo ringrazio pubblicamente, ho avuto modo insomma di sentirlo, ma lo faccio pubblicamente per quanto riguarda la fiducia, è di grossa gratificazione sia per me che per il mio gruppo di lavoro, perché comunque quando sono arrivato qui ho sempre detto che era un onore prendere questo incarico e avremmo fatto di tutto per essere all'altezza di questo incarico e di questa opportunità che ci ha dato. Quindi aver centrato insomma più obiettivi è gratificante e lo stesso le parole da parte sua sono ecco una cileggina sulla torta. Per quanto riguarda le scuse io credo che siano, lo ringrazio, apprezzo tantissimo, sono eccessive perché comunque è stato un anno particolare, è un imprenditore che lavora su più fronti, quindi in tal senso ci sono stati momenti dove è riuscito a essere un po' più vicino, altri momenti che inevitabilmente vuoi causa Covid, vuoi insomma le altre situazioni che deve gestire, è inevitabile che la sua presenza non è potuta essere così costante. Ad ogni modo, ripeto, apprezzo molto perché comunque ha dato dimostrazione di grande stile.